Un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso, c'è la prateria per andare, provano ad andare e possono festeggiare il go del vantaggio. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sotto la traversa. Vediamoci questa rete, gustiamocela da una prospettiva diversa.